Realizzato dallo studio Darvo Serrani Project su incarico della Fondazione Carifano, è stato consegnato questa mattina dal presidente Giorgio Gragnola al sindaco di Fano, Luca Serfilippi, il progetto tecnico di fattibilità economica del centro residenziale per i malati di Alzheimer. È l'inizio di un nuovo percorso che la Fondazione, dopo aver portato a termine la nuova piscina a Nuotiamo, intende percorrere per soddisfare uno dei bisogni primari della popolazione fanese. Sono infatti sempre di più le famiglie fanesi, ma anche quelle del territorio circostante, che purtroppo vivono il dramma dell'assistenza di un loro parente in preda alla malattia mentale generata dall'età. Un dramma che spesso diventa insostenibile perché confligge con le esigenze del lavoro, perché impone una vita stressante, priva di libertà, perché spesso non si sa nemmeno come affrontarlo. La Fondazione propone un centro con 60 posti convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, in collegamento con il vicino centro diurno Margherita, in cui i malati possono essere assistiti giorno e notte. Il Comune ha assicurato la sua collaborazione e si spera che sia così di altri enti e privati. Il costo si aggira sui 5 milioni di euro. La Fondazione già dieci anni fa ha realizzato il centro diurno Margherita, però è arrivato il tempo di fare un ulteriore passo, che è quello di realizzare un centro residenziale, perché il tema delle demenze e del progressivo invecchiamento della popolazione, con quel che comporta, è un bisogno forte della nostra collettività. Siccome i tempi sono abbastanza lunghi perché si possa conseguire l'iter autorizzativo per poi arrivare alla realizzazione, occorre appunto che ognuno di noi, tutti, facciamo la nostra parte, ciascuno per quello che gli compete. Cosa vedremo? È una struttura all'avanguardia rispetto a quelle che sono oggi le conoscenze, le esigenze per ospitare questo tipo di patologia. È una struttura tutta su un piano, con un piano interrato per i servizi, edificato di 2.800 metri circa, con 60 posti e quindi un rapporto per paziente di circa 42 metri quadri. La consegna del progetto di fattibilità è il primo tassello per chiedere i 60 posti letto che servono al nostro territorio per realizzare una residenza protetta per demenze, anche con un'RSA interna per far sì che ci sia un pacchetto completo. Quindi all'interno della redazione del piano dei fabbisogni, che è in capo alla Regione Marche, la città di Fano si candida a chiedere 60 posti letto da autorizzare e poi in futuro sicuramente convenzionario, perché il gestore dovrà realizzare e gestire a proprie spese la struttura che sarà un punto di eccellenza importante, di fianco, ricordiamolo, al centro Margherita, che è un'eccellenza che abbiamo nella nostra città. è un centro di urno, frequentatissimo da tante persone, non solo di Fano ma anche di tutto il nostro entroterra e non solo, perché vengono veramente da tutta la provincia nel centro Margherita.